È una terra di avvocati, il Sannio. Lo rivelano i dati del Sole 24 Ore, elaborati grazie ai numeri degli ordini professionali. Ebbene, la concentrazione di avvocati in provincia di Benevento è la più alta d'Italia, al pari di Reggio Calabria. Ce ne sono 72 ogni 10.000 abitanti. Per un totale di poco più di 2.000, considerata l'eseguità della provincia, si riempirebbe un paese sannita soltanto di legali. Alta nel Sannio anche la concentrazione di biologi e di commercialisti, segno tangibile del ruolo dell'Università del Sannio e delle sue facoltà. Un ruolo su cui qualche tempo fa intervenuto anche il sottosegretario Umberto del Basso De Caro, parlando di sviluppo. Un altissimo numero di legali di esperti nell'economia rende saturo un tessuto lavorativo, aveva spiegato, che non ha una domanda così alta per questo tipo di figure professionali. Sarebbe opportuno, quindi aveva ancora ribatito il sottosegretario, per contro l'apertura di una facoltà di agraria o di veterinaria, viste le peculiarità del territorio. Per quanto attiene alla provincia di Avellino, invece, si riscontra una delle maggiori concentrazioni di medici in Italia, la maggiore della campagna, con 14 ogni 10.000 abitanti, e gli ingegneri, con 55 ogni 10.000 residenti.